Sì, buongiorno, come avete annunciato da studio, Papa Francesco ha scelto il successore di Monsignor Luciano Monari, fino ad oggi Vescovo di Brescia, si tratta di Monsignor Pierantonio Tremolada, appunto, della Diocesi di Milano, nato a Lissone nel 1956, ha studiato nei seminari di Milano, dopo l'ordinazione a Roma ha frequentato il Pontificio Istituto Biblico, conseguendo la laurea in Sacra Scrittura, è stato docente nel quadrianno teologico al seminario di Venegono e responsabile della formazione dei diaconi e permanenti, è stato vicario episcopale per l'evangelizzazione e i sacramenti dal 2012-2014 ed è stato eletto Vescovo Ausiliare di Milano sempre nel 2014. Ma sentiamo l'annuncio nelle parole del Cardinal Scola e poi la linea può tornare a Roma. Devo comunicarvi che a pochi giorni di distanza dal gioioso annuncio della nomina del nuovo Arcivescovo di Milano, Sua Eccellenza Monsignor Mario Delpini, il Santo Padre ha preso un'altra decisione che esprime la sua stima per la nostra Chiesa. Ha nominato Vescovo di Brescia, Sua Eccellenza Monsignor Pierantonio Tremolada. Grazie.